signora le braccia a no luca decisamente troppo piovosa quest'anno non mi permette di fare il mio saluto iniziale comunque benvenuti sul canale del master cae questo è il video speciale per il luca comics 2023 e io sono quello che ne resta del master cae il vostro ospite su questo canale io sono tornato ieri pomeriggio a casa dai luca comics quindi questo video lo vedrete praticamente in tempo reale io adesso devo registrarlo oggi pomeriggio lo monterò e voi domani mattina alle 10 dovreste vederlo perché non mi ero già massacrato abbastanza durante i comics ho deciso di fare anche questa io sono letteralmente come vedete appena tornato quindi non perdiamo altro tempo quest'anno a luca sono successe molte cose ma me ne sono perse molte altre e diciamo che vi porterò come ho già fatto in passato con me per vedere tutto quello che io ho visitato cominciando al nostro arrivo ok giusto per far capire quali sono le effettive dimensioni dell'evento perché magari qualcuno che non è mai stato ai luca comics e hanno detto ah guarda la fiera è molto grossa e lui si aspetta qualcosa più simile non lo so in modena play un grande capannone o magari una serie di tensostrutture in una piazza ecco allora diciamo che la nostra auto era parcheggiata qui noi avevamo il parcheggio allo stadio letteralmente lungo questa stradina noi siamo partiti da qui abbiamo fatto tutto questo percorso per arrivare a questa porta d'ingresso questo è il varco da cui siamo entrati da qui siamo saliti lungo questa strada la biglietteria era qua sopra sopra le mura ecco la fila per arrivare alla biglietteria che si trova qui iniziava più o meno qua all'inizio di questa salita questa è la fila di cui adesso state vedendo le immagini ecco noi siamo entrati e ci siamo fatti tutto questo pezzo solo per prendere i biglietti e vorrei aggiungere che quando finalmente siamo arrivati alla biglietteria è successa una delle cose più caratteristiche che danno grande nostalgia per i look a comics proprio nel momento in cui abbiamo finito di appiccicare le fascette ai polsi è cominciato a piovere proprio ah è come quando inizia a nevicare alla mezzanotte di natale no questa è la magia dei look a comics e da lì è andato avanti a piovere ininterrottamente virtualmente fino al pomeriggio ed è stata delle due giornate quella meno piovosa avendo già passato praticamente un'ora in coda abbiamo deciso che la nostra tappa prioritaria io e il gruppo di amici con cui ero eravamo tutti interessati allo stand dei games ovviamente volevamo vedere i manuali e i giochi di ruolo quindi abbiamo detto facciamo che andare subito allo stand games così magari ci troviamo ancora meno gente e possiamo girare un attimo e vedere meglio in seguito al video prova che avevamo torto da dove c'era biglietteria ai games il percorso l'abbiamo fatto tutto lungo le mura quindi da qui siamo scesi fino qui siamo risaliti fino a qui sempre ricordate le proporzioni e qui c'è lo spazio games e guardando dall'alto dalla cima del muro abbiamo visto che la coda per entrare all stand games era bloccata adesso non vi so dire esattamente cos'è successo probabilmente è tempo di vedere questo video la notizia sarà già stata diffusa non lo so ma a quanto pare ci sono stati per qualche motivo dei ritardi nell'apertura lo stand aperto praticamente più di mezz'ora dopo quando doveva aprire quindi tutta la gente che è arrivata man mano che arrivava rimaneva bloccata e anche lì si era formata una fila enorme il che tra l'altro ha voluto dire che non c'è mai stato un momento in cui si poteva girare un attimo meglio perché poi tutta la gente è stata fatta entrare assieme quindi lo stand games è stato sovraffollato fin dall'esatto minuto in cui è stato aperto invece di aspettare in coda sotto la pioggia noi abbiamo preferito continuare a camminare sotto la pioggia per vedere tutti gli stand lungo il muro e siamo quindi voluti andare a vedere la zona dove c'era il mercato delle armi LARP lo stand di Feudalesimo e Libertà quindi da qui dove eravamo abbiamo salito di nuovo tutta la zona tra cui c'era uno stand della Folletto su cui ci siamo interrogati ma esattamente come è successo? cioè come ha fatto un commerciale di una dita di aspirapolvere a convincere il suo capo a pagare uno stand ai Lucca Comics cioè seriamente chi si compra un aspirapolvere ai Lucca Comics? da qui fino ad arrivare qua dove effettivamente abbiamo potuto vedere tutti gli stand delle armi adesso dovreste stare vedendo i filmati effettivamente è molto bello anche qua resta incredibile si è potuto vedere poco perché eravamo tutti accalcati però c'erano varie cose da vedere e abbiamo potuto comunque almeno farci un'idea di cosa ci saremmo aspettati nella zona nessuno di noi doveva fare acquisti però diciamo che io ero un giocatore del ruolo da vivo quando avevo ancora la possibilità di muovere le spalle che grazie alla pioggia di questo Luca credo di essermi perso per sempre e tra l'altro siamo anche passati alla mostra di Sonic dove abbiamo provato il nuovo gioco non ci ho capito niente ma a quanto pare ho finito il livello quindi immagino di essere bravo da lì siamo scesi per andare ad ammirare il grande muro dei Funko Pop perché era sul nostro percorso nei capannoni in fondo alla discesa e io continuo a farmi una domanda sui Funko Pop cioè sarebbe carino se fossero delle robine piccine e magari costassero qualche euro ma dato che hanno dei costi mostruosi per essere dei pezzi di plastica e non sono neanche delle cose rare perché le trovi ovunque qual è esattamente il senso di collezionare i Funko Pop? cioè perché uno dovrebbe averci in casa un bambolotto brutto sovrapprezzato? potete usare le action figure come tutti gli altri? ora una tappa fondamentale ogni volta che si va ai comics è quella di andare a vedere lo stand dei fumetti quindi da dove eravamo ci siamo spostati qui e qui ha cominciato a piovere veramente non che prima non piovesse si intende ma qua ha cominciato proprio a scrosciare quindi quando siamo arrivati al di là di aver fatto una mezz'ora buona di coda sotto la pioggia lo stand era talmente pieno di gente che praticamente non sono riuscito a fare filmati quindi di questa zona non vedrete niente in questo video devo ammettere che neanch'io lì ho visto in realtà niente perché c'era semplicemente troppa gente quello è stato il momento in cui ha cominciato a piovere più forte e quindi tutti si sono accalcati dentro il capannone nessuno ne usciva c'era talmente tanta ressa che semplicemente non riuscivi ad avvicinarti alle bancarelle cosa che personalmente a un certo punto diciamo che il fastidio del c'è troppa gente ha cominciato a diventare un'ansia del ok ma c'è talmente tanta gente che se adesso qui succede qualcosa siamo effettivamente in pericolo avrei voluto uscire molto rapidamente ma come c'era un sacco di fila per entrare c'era un sacco di fila anche per uscire quindi fondamentalmente noi siamo rimasti una ventina di minuti imbottigliati lì in preda alla fiumara umana che cercava di dimenarsi con tutti che stavano contemporaneamente cercando di entrare ed uscire diciamo che forse mettere qualcuno e contasse la gente che entrava all'ingresso metterlo in un'altra posizione fare un'area più grande non è stato un segno di grande organizzazione come l'hanno gestito, parlando francamente da lì alla fine siamo usciti di nuovo sotto la pioggia con le ginocchia che cominciavano a cedere perché oramai era pomeriggio e noi eravamo in viaggio al mattino abbiamo deciso di riprovare ai games per vedere se effettivamente si riusciva a entrare e questo ha voluto dire spostarsi da qui ritornare sulle mura poi qua c'è un'uscita fare una coda che cominciava circa da qui fino a poter entrare dentro effettivamente lo stand games dentro lo stand games c'era qualunque cosa un giocatore di ruolo poteste desiderare purtroppo dentro lo stand games c'era anche chiunque avesse mai giocato di ruolo almeno una volta nella vita su questo continente quindi non è che si riusciva a girare più di tanto anche perché c'erano molte persone che si erano rifugiate lì dentro per la pioggia e non uscivano noi siamo comunque stati abbastanza fortunati da aver trovato un posto per provare almeno un paio di giochi da tavolo effettivamente non era il principale motivo per cui siamo finiti lì ma da una parte era una delle pochissime attività che si riusciva effettivamente a fare e dall'altra parte almeno personalmente le mie ginocchia oramai avevano deciso semplicemente di entrare in sciopero quindi l'alternativa era o sedersi a provare qualcosa o semplicemente accamparmi per terra in un angolo e devo dire di gente che semplicemente aveva rinunciato e si era seduta per terra in un corridoio ce n'era parecchia e io personalmente li capisco abbiamo comunque passato un paio d'ore nello stand games e fortunatamente tempo che ne siamo usciti aveva spiovuto quindi abbiamo anche potuto fare una cosa che ai lucca dovrebbe essere normale cioè fare due chiacchiere tra di noi fuori e con altra gente che abbiamo incontrato per lì voglio salutare il tizio che mi ha consigliato il gioco da tavolo sì l'ho poi cercato su internet abbiamo anche guardato un po' l'outlet non ho potuto far riprese anche lì troppa folla sì troppa folla è un topoi che si ripete in questo video immagino oramai sia abbastanza chiaro ci siamo mangiati anche i panini che avevamo portato però oramai sarà fatta una certa e io alle 5 dovevo essere lo stand plesio quindi da qui siamo usciti siamo rientrati dalla porta e abbiamo praticamente attraversato tutto il centro di lucca per andare finalmente al padiglione san martino dove c'era lo stand di plesio in cui era previsto il firma copie per il libro che se vi interessa fondamentalmente è praticamente esaurito oramai adesso dobbiamo vedere se forse resta qualche copia fisica due o tre non so se poi le rimetteremo in vendita ma chi non l'ha preso a questi lucca dovete prenderlo su amazon vi lascio il link qua sotto tra l'altro voglio ringraziare tutti quelli di voi che sono passati a farmi i complimenti mettendomi in barazzo davanti agli altri ma voglio ringraziare anche l'intero staff di plesio che anche lì erano lì a vendere i loro libri io sono stato lì a firmare parlare con la gente a dargli fastidio quindi sono stati dei grandi a ospitarmi vedrò di sdebitarmi in qualche modo anche se non so come e tra una cosa e l'altra sono rimasto lì praticamente fino alle 7 di sera quando poi il capannone ha chiuso la fiera dovevano iniziare gli eventi notturni ovviamente cancellati per via del maltempo quindi io mi sono riunito con i miei amici che intanto avevano continuato a girare sotto la pioggia e a quel punto abbiamo ripreso la strada e siamo tornati lungo le mura siamo riusciti abbiamo rifatto tutto il percorso per tornare a dove avevamo parcheggiato la macchina all'inizio di questo video il master etilico aveva messo un contapassi per vedere quanto avremmo fatto e il contapassi segnava che avevamo percorso nell'arco di una giornata 17 km la maggior parte dei quali sotto la pioggia parlando un attimo seriamente io ho visto un sacco di manifestazioni ho girato Luca sicuramente è la più grande nel senso proprio del termine l'estensione dei Luca Comics è veramente enorme perché occupano praticamente l'intera città 17 km e noi non è che abbiamo visto più di tanto il primo giorno quindi possiamo dire che poi mentre c'è gente che ha camminato anche più di noi non sono un po' di esercizio fisico in più rispetto a quello che una persona fa normalmente non è una roba sì vabbè ma se vai a una fiera devi girare tutto il giorno 17 km sono un percorso militare come organizzazione Luca potrebbe perlomeno prevedere non lo so delle panchine su cui sedersi perché a un certo punto il fatto che nessuno nel gruppo nostro era più fisicamente in grado di reggere lo sforzo di continuare a visitare la manifestazione non era più una roba del a che ridere siamo tutti fuori allenamento cominciava a diventare un problema e noi eravamo tutti grossomodo adulti grossomodo sani gente che abbia magari qualsiasi problema fisico anche particolarmente lieve fondamentalmente è tagliata fuori dalla manifestazione perché è un impegno fisico troppo gravoso forse si sta estendendo un po' troppo e si è stesa al limite da diventare una forma di gatekeeping per chi non è nel massimo della forma dato che noi siamo l'ambiente nerd non è esattamente il tipo di gente vogliono tenere fuori va bene? comunque questo è un appello generico per farvi riflettere diciamo che poi lì siamo arrivati in albergo e siamo semplicemente crollati avevamo pensato anche di fare magari un vlog lì la sera nessuno era in grado di reggersi in piedi come abbiamo toccato il cuscino ci siamo magicamente stati trasportati in un mondo di cui è stato interrotto perché il mattino dopo ha suonato la sveglia perché noi avevamo deciso di dedicare la nostra seconda mattinata al Japan Palace tanto quanto ci vorrà per visitarlo tutto nuovamente in seguito prova che avevamo torto e voi starete chiedendo dov'è il Japantown? sarà dall'altra parte di Lucca? mi hanno detto che è lontano ecco questa è la zona delle mura di Lucca il Japantown si trova qua non so se vi rendete conto ma praticamente è in quella che è la periferia della città questa è la bratella che corre intorno a Lucca tra l'altro la coda del Japantown inizia qui nella piazzetta davanti al Japantown ma la coda per arrivare alla coda per entrare nel Japantown ecco quella coda iniziava più o meno da qui noi siamo noi fortunatamente abbiamo trovato parcheggio molto fuori e ci siamo poi fatti un pezzo a piedi perché rispetto a dove siamo il nostro parcheggio prenotato la mappa non carica abbastanza veloce ecco era qui ora c'erano delle navette dei pullman che collegavano il centro di Lucca al Japantown Lucca ha fatto 80.000 presenze quindi immaginatevi com'era la situazione su quelle navette abbiamo preferito andare direttamente in macchina tra l'altro la cosa astuta è che quando arrivava una navetta scaricava la gente qui ma la coda come vi abbiamo detto iniziava qua quindi la gente doveva farsi questo è circa un chilometro doveva farsi un chilometro indietro per entrare in coda per poi rifarsi la coda ed entrare tra l'altro queste sono case di persone dove abitano che si sono beccati la marea di turisti davanti e vorrei salutare chiunque fosse il tipo che aveva sbagliato strada con un autotreno che cercava l'autostrada ha sbagliato ed è finito per incolonnarsi lì dentro facendo fondamentalmente avere un attacco isterico a una poliziotta che era lì e cercava con scarsi risultati di gestire la folla alla fine comunque nel Japan Town siamo riusciti ad entrarci e abbiamo potuto vedere anche lì la qualunque qui siamo anche riusciti a fare qualche ripresa adesso ve le metterò mentre parlo effettivamente qualunque cosa avesse a che fare con la cultura nerd orientale lì dentro c'era dai quadri alle raccolte di DVD a delle simpatiche bambole di ceramica che io vorrei salutare il master etilico lui sa perché ma questa storia non verrà ripetuta un'ulteriore volta si resterete nel dubbio abbiamo girato un paio d'ore buone per poter vedere tutto poi abbiamo visto che si stava avvicinando l'ora di pranzo quindi abbiamo detto che forse era meglio uscire per tornare poi verso la città tra l'altro dovevamo incontrarci con degli altri nostri amici e qui è iniziata un'altra storia perché se quando noi siamo arrivati al Japan Town aveva cominciato a piovere quando noi abbiamo deciso di uscirne la situazione era decisamente peggiorata all'inizio abbiamo pensato vabbè aspettiamo qua un attimo starà facendo uno scroscio particolarmente potente aspettiamo una mezz'oretta che finisca siamo stati bloccati lì per più di un'ora con il maltempo che era arrivato a dei livelli di parossismo questo probabilmente è stato uno dei look a comit con il tempo peggiore in assoluto che io ricordi usciti comunque alla fine ne siamo usciti e a quel punto era talmente tardi che io ho fatto direttamente che ritornare in centro città per tornare a firmare le copie dove ho incontrato tra l'altro sotto la pioggia scrosciante ho anche incontrato due di voi che mi hanno chiesto una foto quando stavo per entrare saranno state ormai le 4 o le 5 del pomeriggio di nuovo e tecnicamente il mio racconto dei look a comics termina qui perché una volta usciti da lì siamo tornati in albergo ma eravamo fisicamente distrutti sia dalla quantità di chilometri che avevamo macinato sia dal fatto che la maggior parte di questo l'avevamo fatto bagnati fradici e stanchi oltre ogni limite uno dei miei amici non è stato bene quindi non ci serviva neanche il caso di tenerlo lì in albergo febbricitante mettiamola così il mattino dopo avevo pensato anche di fare un ulteriore salto allo stand plesio per magari incontrare qualcun altro di voi ma non si poteva tra l'altro cominciava già a piovere quando noi ci siamo svegliati ha piovuto per tutto il tempo che si è rimasto nella zona di Lucca quindi sarebbe stata un'altra spacchinata di chilometri sotto la pioggia incessante e non era proprio il caso e ci mettessimo a farlo per il terzo giorno di fila ho preferito tornare a casa qualche ora prima e permettermi di crollare sul letto morto e dormire per quasi dieci ore di fila anche perché poi io stamattina mi sono dovuto svegliare alle sei per cominciare a lavorare su questo video che voi state vedendo adesso diciamo quindi che lo speciale dei Lucca Comics termina qui e termina anche il mese degli speciali del Master Kai dalla settimana prossima ritorniamo finalmente con la programmazione regolare e inizieremo un discorso sui personaggi e i PNG che ruotano attorno a loro che caratterizzerà la prossima parte di questa stagione del Master Kai per il resto come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo ho caduto a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche magari iscrivetemi qui sotto nei commenti le vostre disavventure ai comics perché io in realtà quest'anno sono riuscito a vedere veramente molto poco per via del van tempo quindi magari inviatemi su Facebook foto, video che avete fatto magari mettiamo assieme un album e in realtà normalmente dico per far rosicare chi non c'è stato in questo caso probabilmente chi non c'è stato è quello che ha avuto la idea il migliore francamente diciamo che quest'anno i comics vanno veramente molto deluso comunque io sono il Master Kai e noi ci vediamo nel prossimo video Grazie a tutti